Il Duce in terra d'Africa, pilotando personalmente il suo trimotore. Il Duce, dopo aver trasvolato il Mediterraneo, atterra in un aeroporto dell'Africa sedentrionale. Il Duce passa in rassegna la compagnia d'onore. La prima visita del Duce è stata dedicata ai gloriosi feriti delle ultime battaglie della Marmarica. La visita ai feriti germanici, che con fraterno cameratismo si sono battuti fianco a fianco con i nostri soldati. Il Duce è stato dedicato ai nostri soldati. Il Duce ispeziona un campo di concentramento di prigionieri. Mussolini tra i coloni italiani del villaggio Luigi di Savoia. La prima visita è stata dedicata ai nostri soldati. Luce a Tobruk, sacra al valore italiano che la difese strenuamente e la riconquistò con aspri combattimenti. Il Duce tra i marinai del battaglione San Marco. Il Duce ispeziona un nostro sottomarino. Mussolini tra i sommergibilisti. Musica Ispezione a delle formazioni libiche. Musica 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 Ispezione ad una nostra grande unità che si accinge a raggiungere la linea di combattimento. Musica Il Duce si interessa al funzionamento di una nuova arma. Musica 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 Il Duce decora i valorossi della quinta squadra aerea, distintisi nelle ultime operazioni. Dopo 22 giorni di soggiorno in Africa sedentrionale, trascorsi nelle zone di combattimento e in molteplici spezioni, il Duce si prepara a riprendere il volo col suo trimotore, diretto ad Atene. Il Duce esce dal comando superiore italiano in Atene. La visita alla caserma che ospita i granatieri e i cavalleggeri del reggimento Guide Milano. Il Duce sull'acropoli. Il Duce sull'acropoli. Un'arditissima impresa dell'ala fascista. Il nostro apparecchio Savoia Marchetti a grande autonomia ha portato dal cielo dell'Urbe a quello di Tokyo il saluto del popolo italiano al popolo nipponico. L'apparecchio pilotato dal tenente colonnello Moscatelli, 22 volte trasvolatore dell'Atlantico, portata a termine la sua ambasceria e rientrato in Italia dopo 26.000 chilometri di volo, la più parte compiuta su territori controllati dal nemico. L'apparecchio atterra felicemente in un aeroporto dell'Italia centrale ed i trasvolatori ricevono l'altissimo premio di essere ricevuti all'atterraggio dal Duce, accompagnato dal segretario del partito e dal sottosegretario all'aeronautica. Il Duce, che da poco è disceso dal suo trimotore che ha pilotato da Atene, ha sostato nell'aeroporto per salutare i trasvolatori. Sono presenti anche l'ammiraglio Abe, capo della missione navale giapponese, il colonnello Shimizu, addetto militare e aeronautico, il colonnello Mitsunobu, addetto navale nipponico, l'addetto aeronautico presso l'ambasciata germanica Von Pogl. La lettura del messaggio che i ministri della guerra e della marina giapponese hanno affidato per il Duce ai trasvolatori. Il Duce ha manifestato il suo alto compiacimento ai trasvolatori e, preso comiato dalle autorità nipponiche, lascia il campo vivamente acclamato. I trasvolatori.